Musica Altra indagine su Alitalia, la procura ipotizza il reato di indebita percezione di erogazione a danno dello Stato mercoledì scorso il blitz della Guardia di Finanza alla sede della S.P.A. E' stato affidato alla società Idrocon, l'appalto da 450.000 euro per realizzare il derzenificatore, un progetto a cura del comune e dell'autorità portuale. Dopo l'indagine della procura, anche l'opposizione di Santa Marina è la critica alla GESAM, la società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti. C'è il Galli di Cerveteri, nell'ottava giornata del campionato di eccellenza, il Civitavecchia passa 2-1 e rimonta. Buonasera a tutti e ben trovati dal TG Alto Lazio. Come avete sentito nei titoli di apertura, apriamo con la questione Alitalia, nuova indagine della procura della Repubblica su Alitalia appunto. La magistratura inquirente ipotizza il reato di indebita percezione di erogazione a danno dello Stato. Mercoledì scorso il blitz della Guardia di Finanza che ha sequestrato documenti relativi all'accordo stipulato tra la S.P.A. e la Carpa Teir. A danno di 250 lavoratori, ma sentiamo il servizio. Indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato. È l'ennesima tegola, pesantissima, che arriva su Alitalia. A lanciarla è la procura della Repubblica di Civitavecchia, che ha indagato la società con quella ipotesi accusatoria, avanzata dal suo seduto procuratore Lorenzo del Giudice. In sintesi, secondo la magistratura inquirente, Alitalia avrebbe mandato in cassa integrazione 250 persone, giustificando la decisione con il fatto che il personale fosse in eccesso rispetto al reale fabbisogno della compagnia aerea. Secondo il PM però, Alitalia avrebbe dichiarato il falso e la dimostrazione sarebbe nel fatto che appena 24 ore prima aveva invece stipulato un contratto con la Carpa Teirra per il noleggio degli aerei e del personale. Dunque, per la procura, non corrispondeva a verità che ci fosse un sovradivenzionamento del personale, altrimenti non si spiegherebbe il contratto di noleggio sottoscritto il giorno prima. A questa nuova situazione che riguarda l'Italia, la procura di Civitavecchia è arrivata indagando sull'incidente avvenuto nel febbraio scorso, quando un aereo della Carpa Teirra era finito fuori pista a Fiumicino. Subito dopo l'incidente, come si ricorderà, sparì improvvisamente la scritta all'Italia dall'aereo, cancellata in fretta e furia durante la notte. L'indagine venne avviata per disastro e lesioni colpose nei confronti dei due piloti romeni della compagnia appaltatrice, ma qualche giorno dopo la procura avviò un'inchiesta anche per frode, affermando che la compagnia vendeva come propri i biglietti che invece erano del vettore romeno, la Carpa Teirra appunto. Scavando soprattutto su quest'ultimo punto poi, il PM del giudice ha scoperto questa nuova situazione. Così, mercoledì scorso, lo stesso magistrato ha inviato la Guardia di Finanza, attraverso un decreto di perquisizione, a prendere tutta la documentazione relativa all'accordo sindacale che il 28 dicembre 2012 all'Italia sottoscrisse con i sindacati al trattamento della Cassa Integrazione a Zero Ore, erogata dall'Inps, mediante l'utilizzo di dichiarazioni e documenti falsi, si legge nel decreto firmato da del giudice, documenti e dichiarazioni prodotte e sottoscritte in sede di accordo con le organizzazioni sindacali presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. In quell'accordo si parla testualmente di sovredivenzionamento degli organici rispetto al fabbisogno funzionale necessario. E queste, per la Procura, sarebbero appunto le false dichiarazioni della società, oltre all'omissione di informazioni relativamente alla stipulazione il giorno 27 dicembre 2012 con autorizzazione ENAC dello stesso 28 dicembre 2012, tra l'Italia e Carp Teir di un contratto witless integrativo rispetto a quello già stipulato il precedente 9 marzo 2012, contratti con i quali l'Italia noleggiava aeromobili e tutte le prestazioni accessorie e nella sostanza esternalizzava i servizi di trasporto passeggeri sulla tratta Roma-Pisa e Roma-Bologna. Fine settimana tra litigi legati ad una movida tutt'altro che tranquilla forze dell'ordine in azione per controllare i pubblici esercizi e soprattutto la somministrazione di bevande alcoliche ai clienti, intervenute in alcuni casi per fronteggiare situazioni poco piacevoli. Come è accaduto in centro quando un giovane è stato colpito violentamente al volto da un individuo prontamente identificato? Numerosi gli episodi, anche se non denunciati, legati a litigi tra giovanissimi. Nel fine settimana, infatti, tanti ragazzi tra i 17 e i 24 anni si sono rivolti al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo per farsi curare ferite più o meno gravi, in molti casi compatibili con scontri fisici. Sarà realizzato, grazie al finanziamento dell'autorità portuale nell'arco di tre mesi, il DERZE Nificatore nella zona nord della città. È stato affidato alla società Idrocon l'appalto da 450 mila euro per la realizzazione dell'impianto. Dopo dieci anni di proroghe ed immobilismo, hanno spiegato, soddisfatti il sindaco Titei e l'assessore Mecozzi, la situazione si è sbloccata. Giovedì alle 18.30 l'Assemblea pubblica con i residenti di Borgata Aurelia, Santa Lucia, Sant'Agostino e La Scaglia. Ma sentiamo il servizio. Un appalto da 450 mila euro è quello affidato alla società Idrocon che si è aggiudicato ai lavori per la realizzazione del DERZE Nificatore nella zona nord della città. L'impianto, per il quale è previsto anche il contributo economico dell'autorità portuale, intervenuto a sostegno della spesa che affronterà il pincio, dovrebbe essere pronto nell'arco di tre mesi. I costi di gestione, alla fine del periodo di collaudo e messa in esercizio, supereranno i 100 mila euro l'anno. Entro tre mesi l'emergenza arsenico sarà risolta, ha commentato entusiasta il sindaco Pietro Titei. Dopo dieci anni di proroghe e di assoluto immobilismo, si vede finalmente la soluzione della vicenda per la quale questa amministrazione comunale si è impegnata fin dall'inizio, senza perdere un giorno di tempo. La situazione si è dunque sbloccata, ha aggiunto l'assessore ai lavori pubblici Mirko Mecozzi. L'impianto previsto risponde ai più avanzati requisiti tecnologici per il trattamento delle acque. Con questo atto si mette fine alla vicenda, almeno alla parte politica, e si chiudono i facili e sterili polemiche alimentate del tutto strumentalmente. E per illustrare i residenti di Borgata Aurelia, Sant'Agostino, La Scaglia e Santa Lucia il progetto e le eventuali problematiche connesse, l'amministrazione comunale ha convocato un'assemblea pubblica per giovedì alle 18.30 presso la sede del comitato di quartiere Aurelia a Piazza Strauss. Saranno presenti il sindaco Pietro Tidei, l'assessore ai lavori pubblici Mirko Mecozzi ed il presidente del Consiglio Marco Piendibene. Sono iniziati gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua fortemente antropizzati presenti in città. Le operazioni consistono nello sfalcio e pulizia al fine di ripristinare le migliori condizioni di scorrimento delle acque e di un loro più agevole deflusso, laddove la vegetazione di detriti potrebbero aver ristretto gli albei. L'assessorato ai servizi sociali era a doppio ai fondi messi a disposizione delle categorie più bisognose, segno di una crisi che continua a mordere anche in città, ma sentiamo i particolari nel nostro servizio. Gli effetti della crisi si fanno sentire anche in città e per averne la certezza basta guardare i conti dell'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune. Fra il 2012 e il 2013 sono infatti aumentati i fondi messi a disposizione dell'assessorato ai servizi sociali per voucher recupero morosità da 0 a 50 mila euro, sussidi economici per gli adulti da 103 mila a 200 mila euro per le ragazze madri da 43 mila a 50 mila euro, sussidi a minori, aumentati anche i fondi da destinare alle associazioni di volontariato e ai centri sociali. E da Palazzo del Pincio si punta anche ad investire sul futuro dei giovani e non solo loro con la messa a disposizione di fondi per dare la possibilità a quanti lo richiedano di prendere parte a corsi di formazioni e altre iniziative messe in campo dall'amministrazione per l'inserimento nel mondo del lavoro. Proprio come spiegato dall'assessore ai servizi sociali Enrico Leopardo, siamo passati a detto da circa 50 mila euro del 2012 a 175 mila euro del 2013 per le borse lavoro. Inoltre stiamo cercando di mettere a punto il progetto autonomia, la possibilità cioè a detto Leopardo per chi lo desidera di prendere la patente e non solo quella dell'auto, investendo su tale iniziativa circa 20 mila euro. Inoltre nel nuovo PEG l'assessore ai servizi sociali e i suoi tecnici stanno valutando la possibilità di inserire dei nuovi capitoli in bilancio per la creazione di progetti come quello sull'assistenza domiciliare per i malati terminali. E guardando all'aiuto alle persone, per l'amministrazione comunale si sta lavorando anche a un accordo con la ASL per la realizzazione di altri tirocini formativi per i pazienti in cura al DSM. Come è stato evidenziato nell'ultimo incontro fra rappresentanti dell'amministrazione e rappresentanti della sanità, ha aggiunto Leopardo, è emersa la necessità di dare la possibilità a chi oggi è in cura a causa di patologie come la depressione di essere reinseriti nel mondo del lavoro. Infatti, secondo degli studi effettuati proprio dalla ASL, la crisi lavorativa e dunque quella economica è uno dei motivi che porta alla depressione. E a breve, l'ufficio dei servizi sociali potrebbe dotarsi anche di un nuovo regolamento. Questa amministrazione, ha detto Leopardo, ha la chiara intenzione di cambiare il modo di aiutare la gente. Per questo motivo stiamo lavorando per modificare la carta dei servizi. L'ultima, infatti, ha concluso, risale al 2006 e porta la firma di Paola Ritastella. Cerimonia a Piazzale degli Eroi in occasione della festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, e in occasione del 95esimo anniversario della fine del primo conflitto mondiale è stato letto il messaggio del Presidente della Repubblica che ha testimoniato l'avvicinanza del Paese alle forze armate, garanti di libertà e presidio delle istituzioni democratiche. E questo è stato ribadito anche dal Sindaco Pietro Tidei che nel suo breve discorso di fronte alle autorità civili, militari e religiose del territorio, rappresentanze di forze armate dell'Ordine Associazioni Combattentistiche e d'Arma, ha ricordato l'importanza di un'Italia unita, specie oggi con la crisi che ha colpito il Paese, sottolineando l'importanza delle forze armate. Presente anche il comandante del Centro Simulazione e Validazione dell'Esercito, Massimiliano del Casale, che ha ringraziato il primo cittadino per le parole espresse. Successo per lo spettacolo teatrale, il Testimone esce ieri mattina al Teatro Traiano, un evento promosso dall'ITS Marconi. Scritta da Mario Almerighi, giudice ed ex presidente del Tribunale di Civitavecchia e Fabrizio Coniglio, la rappresentazione ha raccontato con leggerezza ma anche con drammatica amarezza la storia dell'omicidio di mafia del giudice trapanese Giacomo Ciaccio Montalto, amico intimo di Almerighi. Una vicenda che gli studenti, a cui era dedicata la mattinata, hanno seguito con partecipazione. Sentiamo il commento di Mario Almerighi nell'intervista. Questa mattinata di incontro con le scuole per la presentazione di uno spettacolo teatrale che ha anche un messaggio importante. Sì, il messaggio è un messaggio di legalità, di rispetto della legalità e di presa di distanza non dalla mafia in quanto tale, dalla criminalità organizzata, ma dalla cultura che può portare ad essere indifferenti rispetto al fenomeno criminale della mafia. Questo era il senso dello spettacolo. Devo dire che quello che mi ha colpito molto è stata la ricettività di questi ragazzi. Io pensavo, dico, ma forse sono troppo giovani per capire, per comprendere. Invece si sono sintonizzati in un modo meraviglioso. Ho l'impressione che sia servito questo spettacolo per la formazione della personalità di questi ragazzi. Ne sono molto contento. Quindi lei pensa che mezzi come il teatro, l'arte in genere, possano essere più efficaci per una maggior partecipazione del pubblico, in particolare dei giovani, a temi così delicati? Guardi, io sono convinto che la mamma, la madre di qualsiasi civiltà sia la cultura. La stessa politica è figlia della cultura. Quindi quello di cui ha bisogno il Paese è di una diffusione maggiore della cultura. La cultura porta alla conoscenza, la conoscenza porta alla libertà. E' quello di cui il Paese ha bisogno enormemente. E bisogna partire dai giovani. Quindi credo che la sua domanda, la mia risposta è sì. Consegnate agli studenti del liceo scientifico e del linguistico Galilei di Civitavecchia e Santa Marinella gli attestati di lingua inglese, francese e spagnola conseguiti a seguito dei corsi organizzati nel passato anno scolastico. Agli studenti, la dirigente scolastica Maria Zeno ha sottolineato il ruolo fondamentale delle lingue straniele nella società attuale, sempre più caratterizzata dalla multiculturalità e da esigenze lavorative improntate alla mobilità. La dirigente e i docenti di lingua si sono congratulati con tutti gli alunni per l'impegno mostrato e per i risultati ottenuti. Ed ora vi lascio un piccolo spazio pubblicitario a seguire la nostra consueta informazione del comprensorio. A tra poco.